Dopo il sorteggio di questa mattina, che ha visto toccare in sorte al quartiere Ruga Massimiliano Casali e Giuseppe Montalto, per il borghetto Federico Brachino e Emilio Parri, per il pianello Gabriele Cecchini e Alessandro Pallari, per il travaglio Dario Marini e Mariam James Batazzi, gli arcieri dei quattro quartieri sono scesi in campo di tiro per disputare la provaccia. Dopo l'estrazione dell'ultima distanza, 38 metri, la provaccia ha visto alcuni errori. A trionfare, alla fine, è stato il quartiere Ruga con 95 punti, seguito dal travaglio con 92 punti, dal pianello con 85 punti e dal borghetto con 83 punti. Una provaccia ha vinto 95 punti e era diverso tempo che la Ruga non portava a casa una provaccia. Quali sono i sentimenti così a caldo e quali le aspettative per domani? Sentimenti a caldo e finalmente siamo riusciti, almeno un obiettivo piccolo, a raggiungerlo. E' un punteggio buono perché comunque 95 con questi cinghialini è un punteggio significativo perché non è facile farlo. Le speranze, speriamo domani di rifare la gara di oggi e anche meglio. Non siamo soli purtroppo, però faremo il possibile. Si preannuncia dunque una gara appassionante domani con niente di scontato. Non siamo soli purtroppo, però faremo la gara appassionante domani con niente di scontato.